Questo video credo un po' per esorcizzare, cercare di tirar fuori un po' di cose nella speranza che possa far bene anche a me. Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo, il che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare, non ora, non in questo momento, in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli, ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto, insomma, quello che ho scoperto leggere storie di altre persone mi ha dato conforto e quindi se anche... è una cosa che sicuramente mi sento di fare in futuro, quello di raccontare questa mia nuova avventura, perché se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona che magari non ha la fortuna di essere circondato da così tanti affetti come è la mia bellissima famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che fa pensare a tratti ovviamente non si riesce a dare.